Il comune prima era a Brugnello, la sede, poi era stata portata a Confiente, però qua era sempre stata comune di Cortabugnetella o era stata colli? No, colli, colli, comune di colli, è stata dopo? Che è l'anax del mio, è stata portata, 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 portata. Più o meno l'anax, attorno al 20 o più tardi? Più tardi di voi, sì, il 20 è stato portato, perché Marsali di Cortabugnetella attorno al 1923 era passata dalla provincia di Pavia, perché era la provincia di Pavia, quindi di Cortabugnetella, alla provincia di Piacenza, Marsali di Cortabugnetella. Chiaramente allora la sede comunale era ancora Brugnello. Ma dopo la guerra c'è stato il passaggio? Sì, sì, praticamente. Senta una cosa. Passe cose cose vera, e chiedono, e hanno appiato i suoi figli, e hanno avuto molto coli. Sì, 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 hanno avuto coli. Quasi esplorò, meno mio, aveva quei encartamenti, adesso no, non è feo. Quasi esplorò, meno mio, c'erano un coli di encartamenti. Però il cumulo era già amassato. Per certi, per certi encartamenti, vengono a cantare un camò. Certi no, adesso no rio. No? Adesso no, è portato tutto amassato. Ma praticamente, guarda, dunque, è stato amassato. Sì. 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 Perché, senza, tu, tu... Arvetto. Dopo la guerra... Tu, leggi, sta tua, che stuva. Tu, 45, si era mica mostrutta fuori, no? Mi diceva quando... appena finita la seconda guerra mondiale. Eh. Sì. Perché, se, se... E, dove c'era un sussidio di guerra, e andavamo con fuori. 3 anni, sicuro. A me, a me... Che, uff... 3 anni, io sarò ancora... Se, se, ma, me sei. Però... Quindi voi dipende... Eh sì, eravate solo il comune di Coe, dipendevate tutto e poi tutto l'anno. Ah di... Infatti, la differenza che ancora oggi sussiste, perché, adesso è stata eliminata perché c'è stato uno scambio, la diocesi qui è sempre stata Piacenza invece Marsaglia con Mignolo, Pompiente e Pire è sempre stata diocesi di Bobbio adesso che la quale dipendeva da Diocesi di Genova l'anno scorso c'è stato il passaggio da Genova a Piacenza quindi adesso è tutto con lo va adesso no, è tutto Piacenza praticamente Bobbio è stato Piacenza automaticamente adesso è la stessa diocesi di fatto in Marsaglia ci sono alcune case per esempio in via Bancora che dipendono ancora oggi dai parrocchi di Ozzola il confine era proprio praticamente Marsaglia vecchio, Zola è anche casa lì era come lì che era tra quel marchio e cazzo 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 comincerò mi attraverso la Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.